Abbiamo inviato una comunicazione a tutte le ATS affinché verifichino in modo puntuale le azioni messe in campo dei comuni per il contenimento delle zanzare. Così l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, preoccupato per il recente incremento dei casi di malattie virali trasmesse dai fastidiosi e pericolosi insetti e in particolare per gli episodi di febbre del Nilo o West Nile virus che si registrano anche in Lombardia con alcuni decessi di anziani contagiati. L'attività di supporto e consulenza che le ATS offrono alle amministrazioni comunali, spiega Gallera, prevede che vengano fornite le indicazioni per gli interventi sia preventivi sia di controllo e contenimento. Le agenzie di tutela della salute hanno già inviato a tutti i sindaci dei territori di competenza la circolare regionale che confermava la necessità di disporre un sistema di sorveglianza capace di identificare l'eventuale insorgenza di fenomeni importanti o focolai, nonché di intensificare gli interventi di contenimento delle zanzare. Al verificarsi di un caso umano, anche solo sospetto di West Nile o di altra patologia trasmessa da zanzare, prosegue l'assessore, viene attivata l'inchiesta epidemiologica per acquisire informazioni precise relativamente alla zona di esposizione. È fondamentale poi arrivare ad una diagnosi certa del virus, inviando i campioni ai laboratori di riferimento. A seguito dei dati acquisiti con l'inchiesta epidemiologica, vengono quindi attivati gli ulteriori interventi di disinfestazione dei luoghi dove la permanenza del soggetto ammalato sia indicativa di possibile area di avvenuta esposizione e contagio tramite puntura. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Circa il 20% presenta febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei che possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana e variare molto a seconda dell'età. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate invece la sintomatologia può essere più grave, con febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Nei casi peggiori, circa uno su mille, il virus può causare una encefalite letale. La diagnosi viene prevalentemente effettuata attraverso appositi test di laboratorio. Non esiste una terapia specifica per la febbre West Nile. La prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l'esposizione alle punture di zanzare, pertanto è consigliabile usare repellenti e indossare pantaloni lunghi o camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, soprattutto all'alba e al tramonto. Posizionare zanzariere alle finestre, svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori, per esempio i secchi, con acqua stagnante, tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non vengono utilizzate, cambiare spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali.